Ansem, Ansem mentre progetta come dominare il mondo, o come evitare che si vede a festinare i capelli, una delle due. Ansem, chiamato anche il ceratore dell'oscurità, è un ex scienzezio giapponese che nella saga di Kingdom Hearts aveva tentato di creare un po' di meno che il più grande blackout della storia. La carriera accademica, gli studi e le ricerche. Ansem originalmente era un ragazzo sfigato in nome Xenahort. Non si sa nulla di lui, solo che venne trovato dal suo futuro maestro, Ansem il saggio, in mezzo di una strada privo di sensi, di soldi e con l'armese all'infuori. Il vecchio non ci pensa due volte, lo fa nel suo laboratorio, pretendono come uno di suoi sei e poi dodici appendisti. Even, Bragg, Dylan, Elius e Ienzo. In realtà Xenahort non è altro che il corpo di terra fosse tutto da master Xenahort, ma questa è un'altra storia. Passa il tempo e Ansem scopre che nelle segrette del castello sono nascoste diverse pinte di birra e, decise a scolastere tutte, scende verificiosamente. Purtroppo per lui non trova le rognette pinte, ma solo una porta della luce e un fortunatissimo Heartless. Solamente però il giovane pinte è stato a questi ultimi per la birra e decide di capire che caspita sia un Heartless e una porta della luce cercano su wikipedia e non circolpedia. Fortunatamente allora non erano stato ancora inventato, vabbè era questo malattissimo gioco e il povero Xenahort è costretto a fare gli spalimenti da solo. Dopo qualche settimana mi sono mai senza accorgere di cosa sta facendo, il suo bandista. E' sempre che il ragazzo è in camera sua, dove però continui per stare a ritornare le sue ricerche, fino alla fatale decisione di gettarsi in oscurità per ottenere il potere necessario per i suoi esperimenti. Da qui inizia la vera e la propostola di Anselmo, che dice di foto del nuovo al maestro per i picca. Per continuare le sue ricerche decide di fare la laurea breve al ceppo. Dopo circa 4 anni, il giovane Anselmo tiene una qualifica necessaria a costruire la sua macchina a creare Heartless. Procettato è creato in prototipi quando erano con Anselmo il saggio. Dopo circa due giorni, il tomo posticino ha affattato un tal Radiant Garden. Ripetete tra noi l'altezza oscura, per tenere lontani i turisti, dove se ne lasse un gigantesco carnese e dare il via ad un'idea venuta lì per lì, creare il più grande black card della storia. Kursopho venne fermato da un malmocchio, da un malmocchio, dai lì con i capelli di nome sola. E' recorzato in curarsi il suo amico Iku per il resto della sua vita, fino ad essere sconfitto definitivamente dal ragazzo, con tutta la sua buona parte del mondo. La più grande serga mentale di Ansem Scoperte Ansem fu un vero genio Scoprì davvero molte cose Ed erano davvero importanti Pregato per lui che l'aveva scoperto fosse il fatto che tutto ciò che diceva E' esattamente contrario alla realtà Se ne deduce che Scrivere un libro e scoprire per sempre Non è un buon mondo di fare soldi In quanto anche se le manoscritte avesse successo Sarebbe impossibile Ritacciare l'autore e dargli il ricavato Mai e ripeto Ho mai trovato l'autore un ragazzino Comprare un castello gigante Per piazzarci in mezzo Una dannatissima posta Per quanto potresti potresti utile Non è un buon affare Mai fidarsi di tenere gli esseri Neri dagli occhi gialli Soprattutto se ti vogliono mangiare il cuore Perché aiutare un adolescente A resistere l'ascurità Quando il tuo scopo è quello di farlo cedere Mai essere troppo furiosi Nei combattimenti Un modesto tritratto Fregare il nome del tuo maestro Oltre essere da coglione Ti rende facilmente l'intracciabile E di certo non è una cosa ricerita Mai essere troppo sicuri di una cosa Tratto scritto troppi Se no poi quella sarà sicuramente il contrario Di quello che credevi Incandare la gente non serve a nulla E ti crea solo casini Ansem come nome È una cacotta pazzesca 92 minuti di applausi Vabbè Mai imitare Ansem Mai Il successo letterario Ansem è famoso per uno dei suoi libri Il dirale di Ansem Divento un bestseller di fama Di fama mondiale Il libro è nato nella sua storia Nelle sue teorie E soprattutto Delle sue cazzate Una delle quali fu quella di mettere Nel modo scritto 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 in carattere Minusco alla bordopagina Dove annotava Le sue ricette preferite Il libro Ebbe una stesura unica E continua E non uscita Delle rinfiere il proprietario Fino a quando Questa non c'era la cuoia Tra l'altro scritto con la Q Il volume Divisi Divisi in vari capitoli No In diversi capitoli E imita un altro diario A stavolta Creato il diario di Ansem Il saggio Questa denota Una grande scarsità Di idee del autore E un certo di sentimento Per il fatto Di non uscire a creare niente di nuovo Ma soprattutto Una presenza Spregiudicata Di pigrezza mentale Stile di combattimento Il loro geniale Healthless Filmato Ansem Il cercatore dell'oscurità Difidata Dalle imitazioni Ansem fu pure Un grande combattente E come tale Presentava diverse tecniche Tutta presa da solo Bravo Ovviamente però A nulla servivano con sua sola E lo distrutto In manca non si dica In ogni caso Eccovele Guardian Il giornale inglese In cambio De una sua imitazione perenne Ansem è impotente Da un reflex che appare E scompare a piacimento Se necessario Questo vestere può fare anche Da guardare al corpo Ma bisogna ricordarsi di pagarlo Discidalia Il Guardian lancia qualcosa Che somiglia ad un cd Il maggior fatto delle volte Non serve a nulla Perché anche un idiota Sa evitarle Ma è sempre meglio di niente Submit Non so a che serve Sembrere che il Guardian È qualcun altro Ma non vorrei il pelemme Dato che ce l'ho dietro E non è un bel verarsi One Gold Il guardia si mette davanti Il guardia si mette davanti Ad Ansem Credente su un portiere E il bello è che è anche bravo Ti incula dal basso Solo senti in mano Gli impiettosi di Ansem Dallò spaporare il cervello Ansem chiede al Atlas Di sboccare dal sforzato del pavimento Per sottomizzarti Creando un portiere Nel quale o ti muovi E sei morto Onda d'urto Ansem e il Guardian Sfattano una testa sul pavimento Che andassi una forte migraria Ma lui scende Il 9% delle volte accolpiti Con il Onda d'Ultra Onda d'Ultra Subito dopo il ticulo dal basso Assalto Ansem ti inconna come un toro Punto Mondo del caos Ansem si trasforma in un incontro Ansem si trasforma in un incontro Tra Majin Buu C'è un po' Un drago E la morta nera E allora sei fottuto Curiosità Ansem non ha mai avuto una ragazza Inoltre la fortezza oscura E alcol è camuffata Nessuno mai che sa dare Ansem perché Per ricasse tanto Per un'idea così idiota Ansem è diventato Il re degli air flash con un colpe Non sa pronunciare una frase Non sa pronunciare una frase Non sa pronunciare una frase senza metterci in mezzo a parole come mondi Oscurità e air flash Ansem non è un bianco naturale Grazie a tutti Arrivederci a tutti Grazie.